Buongiorno a tutti, siamo qui in Regione Toscana per andare ad analizzare un altro aspetto della famigerata direttiva Volkest che è stato recepito dal Governo, quello relativo agli ambulanti, in una maniera che secondo il Movimento 5 Stelle andrà a incidere in maniera veramente pesante su una categoria che è già tartassata sotto altri punti di vista, appunto i venditori ambulanti. Abbiamo Ivan della Valle che ci racconterà quello che stiamo facendo a Roma a riguardo. Sì, abbiamo presentato una PDL chiarissima, due punti ma fondamentali, l'uscita degli ambulanti dalla direttiva Volkest perché sono stati inseriti in maniera errata, noi riteniamo che assolutamente non sono risorse naturali quindi vanno esclusi dalla direttiva Volkest e poi all'articolo 2 togliere le società di capitale dalla possibilità di entrare nei mercati. Sono due punti fondamentali ma che salveranno 200.000 imprese in questo Paese. Grazie.